Adesso io, quando Bloodwig colpisce un nemico ottiene energia a proporzione al danno causato Allora qua abbiamo finito, più o meno Sì Vedete la mappa? Aspetta, no aspetta perché Allora, le cose sono due, o ci esploriamo la zona E ci facciamo altra EXP Magari c'è qualche cassa e droppiamo qualche altra cosa Eh, andiamola Spero che siamo un po' senza munizioni, però Ah, vedi? Lo sapete? To Allora, dove cazzo? Annaschali e fermali Vedi un'altra cassa Eh, vabbè, ora mi dovete sopportare Forza Ehi Il fucile è qui, attima Scudi Oh, sto fucile è bello Salto? Ah, tutto brutto brutto Ah, c'è la pompa Ah, è buona Però c'ha due colpi Quelli per me Eh, vabbè Però è l'elementare Eh sì, quello sì Peraltro è un esplosivo Se non c'è qualcosa di poco Esplosivo Eh, ma questo leva il doppio del danno Mi possa tenere quell'esplosivo Aprite, aprite Tutto Ma vedi? No, no Mi ha preso bene Eh, ma no Mi ha levato 500 o così Ma c'è un duro lì Putacchia, no Sì Sto con la pistolina di merda Cosa roba qui? C'è però troppe munizioni Poche munizioni Poche munizioni Ok, questi ritornano indietro No, di qua c'era un duro di qua Eh sì, un duro di fuoco Ah Sono senza colpi Cosa mi fa impazzire, ciala di energia è arrivato lancia fiamme è come a natale sono robe? altro fucile vabbè sta mitra ah vedi via 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 stiamo a guardare il danno non le piace? danno 6 lo prendo io eh vabbè lo prendo io c'è un altro fucile qua ah no quello è più forte il mio quello vuole qua abbiamo fatto abbiamo finito abbiamo scavato a fondo allora via ho voluto scavato poi c'è un'auto critica ho fatto dei danni che non vede in comportabile annaffiali e fermali prendi un po' di cura ma perchè vi ho me siamo ritornati operativi siamo ritornati operativi rispetto a prima ora vediamo quanto succhiamo a raccogliere i cristalli oh non duro altro è fatta prende bloddy non ce ne possiamo andare anche affanculo ah no non ce ne possiamo andare affanculo cioè poi ti spawnano in una maniera incredibile eh guarda che stanno a dire ma tu non hai da tutto il cazzo è l'ora E' a questo punto, direi. E' a questo punto. Pazziamoli. E noi da sempre, ormai al cazzo, ci vogliamo andare in cielo. Vedete? Vedete come gli stronzi muoiono, eh? Vedete come gli stronzi muoiono. Non è partito ormai, non si... Ah, che cazzo! Ah, zio, sono morto! Non lo facci? Donnazione, ti vuoi alzare? Vabbè! Abbiamo finito. Io, io ho distrutto un braccio. Oh, no! Oh, no! Eh no, che padre, racca, madonna! Oh, no! Sento, ho già meglio. Oh, merda, ho già un luro. Oh, è me vanno a matarù! Oh, è me vanno a matarù! Sento, ho già un luro. Eh! Oh, è un luro. Oh, è un altro che nonce la porra. Oh! 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 dobbiamo prendere un rifornimento veloce che pure vendo benissimo vado vado vadi vadi mamma mia doppio che? i grandi comunque escono veramente un sacco di due penso io al mezzo guida oh ma me ne fate è sali su una prego prego avanti vado eh la presidenza come sta andando? ai cristalli no? la consegna prima di questa no? vabbè ma vadi 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 vado bene aiaa non funziona dalla macchina e' modo cazzo ma abbi fede e' abbi fede ei abbi fede in gesù cristo ah ma' momma e' delle robe la sento rumori brutti non deve sentire deve sparare eccoli qua no no maia mi vedo posti che quanta cazzo di ex cedano che male santa andare a completare i cristalli li prendo sparì prenda mi servono 50 prenda ciò torniamo aspetta 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 manete lì perché se te ne hanno guardato tutti i posti qua mi ricordo che era la zona dove camperavo eh ma allora lei è il primo io sono era uno sniper è morto è morto i salti di verde ah ora mi ricasciate è morto è morto è morto è morto è morto ah presto è una cosa ma ci stacchi non dovevo una fiala di energia quanto siamo? 10? ma perchè quasi se non ci troviamo dopo adesso la toretta cura il cerchio per terra poi siamo a 15 siamo a 15 con 300 di scudo un'altra cosa aspetta è andato il punto da metà sopra che c'è non c'è oh 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 qua c'è dell'energia la cassa ma lei l'onore è sempre bello ah vedi ah vedi è bianco ma lei non faccia questi ah il cecchino esplosivo stiamo qui c'è una donna c'è una cassa c'è un'altra nel 2 nel presigua non ci sono che cosa a lei è sempre l'onore che cosa non ci sono questo aiuterà le armi esplosivi i cecchini esplosivi è spettacolare non ci sono non ci sono ci sono la cassa la cassa la cassa non ci sono il ginocchio la cassa l'alte l'alte keinen buon l'alte l'alte i è un'alte la cassa cassa la cassa Ehi, era... Io lo confondo, no? Mi trovano un lag... Oddio, è esploso? Così morto... Ma vedi, vedi... Morte ca... E... 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 E' sicuro così che non torna? Sì... Ma qua ci sono le robber... Siamo a 30? Lo vedo? Lo prendo? Lo prendo! No, l'avevo preso! Ma noi... Non so... siamo mal fidati, no? Eh vabbè... Che fosse un cazzo dentro di lei... Duro! Mi sento già me... Mi sento già me... Mi sento già me... no perchè più una roba da in merda a te ma dove è il casinore un'altra cassa facci facci l'altro ci hanno rotto si fatemi vedere un'intera un'intera c facci visionare no quello dopo questo ma tanto io non gli usi però aspetta eh nessuno ammazza il mio amico ah hai capito bersaglio colpito mi serve più non cazzo se sono bravo ciao voi state facendo delle cose io ne sto facendo delle altre perchè lei va lì ehhh ando a prendere i cristalli e a fare la missione del club c'è com'è la missione del club eh voi non sentite dov'è eh ma già l'ho presa la missione devo prendere la eh faccelo più pure a noi che non si sa mai devi selezionare tu io non posso ok allora si è sopra lì si è sopra questo me lo ricordo andiamo portando il suo video 43 quindi si è proprio a 45 43 eh è strano che siamo a 43 mi sento già me mi sento già me mi sento già me mi sento già me è finita mi sento è finita mi sento mi sento già me il tizio muore dopo e l'ho ucciso e' finita è finita mi sento si si qua ci sono altre persone sono cine pelle sempre più di me qui aia ci deve fare fare essere duro oh 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 Ah si, ho fatto tutto da solo Allora No, meglio sempre questo Ma ste pallonacce No, no, no Ma gioia E che cazzo E muore E vabbè sto laggando come la merda Ah vedi Allora Qua prima avanti ci dovrebbe essere la Una cassa se non mi sbaglio Vedremo No, allora aspetta, 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 aspetta che non siete Ce ne so due te cazzo Ma no, 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 no Sì, ce ne sono due, però aspetta un attimo Dove va? E a dare la riparazione al ca... Ah no, dovete venire per forza pure voi Questa è per la porta Mi sta laggando molto Ah no, questo non apriva nulla Come no? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no E cosa ci ha dato? Eh, però ti dà l'inventario L'inventario più capiente Basta Sì, ho dato solamente questo Ma gli spero Gli spero Eh Sai che c'ho mille di ping, c'ho qualcosa che c'è Aspetta, non lo andulliamo 503 Eh no, la sera a volte si alza, non so perché Ah, vedi? Qualche... Torinese 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 Eh, qualcuno che si attacca, ma vabbè Torinese Torinese Che scarica i porno Mettiamo la password Eh, mettiamo la password Eh, la password c'è, vedete qua Ah, vedi? Ma no, ci sono gli hack Ma perché credo che ce l'hanno data la password da... della gente Ah, danno le password, va bene E' io Non so se da niente E' da lei, dalle password Che danno le password Dalle password Cosa tutta Mirko Eh Mirko Prende quale password Aia Finita tutta tosse Qualcuno sale di livello Chi è stato? E' chi è stato? Io non conosco nessuno No, lei non conosco nessuno Vabbè ma basta però venire a tolto Mi vogliono bene Ti RV All the way E' io Ho 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 C'è quando l'apre la bocca dovrebbe morire in un secondo Siamo sicuri al cento per cento che non c'è nessuno rompi paltre E mi culo a sinistra C'è sempre spazio per dell'altro portino Per me davvero Sì cioè più forte quello che ti accolto per te ero Bene Ma benissimo guarda abbiamo preso delle merde di così nozio C'è in due C'è in due Allora Allora cosa? In teoria In teoria E' finito E' finito Però c'è un altro percorso che non abbiamo fatto Hmm Hmm Ci dica ci dica Un attimo mi facci orientare un po' Ci dica papà castoro ci dica E' il mongoloide che sta qua che sta girando Ok Veramente si sta schiaffeggiando con un muro Vedi un'altra cassa Voi sapevate Vedi 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 Iperior Ringraziami perchè E' l'Iperior Allora Allora deve sapere signor C'è Una cosa Le armi a Iperior sull'1 Sono abbastanza rare da trovare E anche armi abbastanza forti Perché già sa Se lei già Ha giocato un pochino il 2 E le armi Iperior Sono precisissime Però ma che le impostrano Sempre a lei escono cose belle Qua secondo me sta Il problema è che è il cecchino E io col cecchino non posso sparare Vabbè Un scemo Un scemo Commentano le immagini Ah vedi E' ingrati Che fa male E se non faceva male Qua c'è dell'energia Non ha fatto il 18 volendo Quanto le manca per il 18? E' un chicco piccolissimo Ah un chicco d'uva Si proprio un chicco d'uva Mettere il punticino Non scelgo Ciò tanto C'è dovrei fare altri 9 livelli per tankare Vogue benissimo C'è dovrei fare altri 9 livelli